Al minuto 92 di una partita che l'Union stava ormai portando a casa, un errore in uscita del portiere Corasaniti costa carissimo alla squadra verde granata. Pareggia Cardellino per la gioia dell'Este che esce imbattuto dal Boscherai. Niente da fare dunque per l'Union, la cui striscia di partite senza successi si allunga a quota 4. Per la verità l'1-1 può anche starci perché l'Este aveva attaccato senza sosta nel secondo tempo. Senza però riuscire a trovare la via del gol. Bello invece il primo tempo della formazione verde granata, la quale pur rischiando qualcosa dietro, ha saputo mettere in difficoltà il portiere Padovano e al minuto 36 un cross di Cossalter trova la deviazione vincente di Gibril. Poteva essere il gol vittoria ma due minuti dalla fine ecco l'ennesima beffa stagionale. Una partita che si poteva vincere, che si poteva perdere, ci sono state diverse occasioni da ambo le parti, soprattutto anche nel primo tempo più che nel secondo tempo. Però chiaramente arrivi al 92esimo e la vittoria ce l'hai in mano e chiaramente c'è il ramarico di non averla conquistata. La partita non si può pensare di portarla a casa solo difendendo, bisogna cercare anche di mantenere il possesso. Non ci siamo riusciti, però c'è da dire che rispetto alla partita precedente la squadra è stata più combattiva, è finita un po' meno in area rispetto a Belluno, dispiace per il risultato, però bisogna far tesoro anche di questo, lavorare e cercare di riproporci la prossima gara. I Verde Granata riprenderanno domenica 21 da Arzignano in un match, da non sbagliare per evitare di essere troppo avvicinati, dalle penultime due posizioni della graduatoria. Saranno due mesi e mezzo di campionato fondamentali per il futuro sportivo dell'Union Feltre.